Nell'aula di Palazzo Lascaris, il 5 marzo, è stato presentato il libro Maschere per un massacro, di Paolo Rumiz, a cura del Comitato Resistenza e Costituzione. Il volume ripercorre la genesi del conflitto nella ex Jugoslavia e ne contesta le motivazioni etniche. Alla presentazione con l'autore sono intervenuti Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio regionale delegato al Comitato, Roberta Biaggiarelli, attrice e documentarista, e Donatella Sasso dell'Istituto di Studi Storici Salvemini. È un libro che ha 20 anni, forse un po' di meno, ha 16 anni, mi era stato chiesto in tutte le forme di ripubblicarlo, la Feltrinelli alla fine l'ha preso per sé e l'ha ripubblicato. Era una cosa che mancava perché spiega dei meccanismi sulla guerra di Bosnia, che sono dei meccanismi universali e che smentiscono il fatto che quella guerra è stata una guerra balcanica, mentre in realtà era una guerra europea, una guerra che aveva degli strumenti di innesco e di sviluppo che sono assolutamente universali.